Bentornate e bentornati, siamo su Radio Sankara, io sono Serena Sechi, questa è la trasmissione Tabù e Tatù. Affrontiamo questa settimana il tema del benessere sessuale e è di nuovo con noi la sessuologa Francesca Inghirami, che ringrazio per aver accettato anche questo nuovo invito a questo programma. Grazie a voi per avermi invitato di nuovo, mi fa molto piacere. Chi non avesse ascoltato la scorsa puntata può trovarla sui nostri canali social perché è stata una chiacchierata veramente molto interessante nella quale abbiamo parlato del ruolo della sessuologa e del sessuologo e un po' delle motivazioni che spingono uomini e donne a rivolgersi a questa figura professionale. Oggi Francesca ti vorrei chiedere delle cose un attimino più dettagliate. E ecco, mi piacerebbe parlare insieme di quello che le donne non dicono e di quello che gli uomini non dicono al proprio partner. Da quale parte ti piacerebbe partire? Allora, diciamo che in generale, proprio per non andare un po' ad avvalorare, a riconfermare gli stereotipi, vorrevo fare un po' un cappello, introduttivo nel senso che in qualche modo nelle problematiche della sessualità solitamente c'è sempre una difficoltà dell'affrontare questi temi. Nella coppia, ancora di più, si tratta di difficoltà comunicative. Cioè, quello che succede molto spesso è che magari si hanno dei desideri, delle fantasie, anche che si vorrebbero realizzare nella sessualità, ma che invece per vari motivi non vengono messi in atto. Non vengono, quindi in qualche modo l'altro non sa che cosa io desidero, che cosa vorrei, che cosa mi piace anche tante volte. Quindi si va un po' come due binari che non si incontrano mai, no? Ecco perché è importante che invece lavorare sulla comunicazione. Cioè, anche se c'è sempre tanto imbarazzo su questi argomenti, è importante che ci sia anche però un'accoglienza, un ascolto da parte dell'altro, del partner, per poter capire poi anche quello che si desidera realmente. Alla fine la sessualità si parla di un piacere, no? Quindi in qualche modo è importante arrivare a raggiungerlo, questo piacere, no? Da parte di entrambi. Quindi, non so, dimmi tu da che cosa vorresti partire, se preferisci uomini o donne. Senti, io ho raccolto un pochino di testimonianze. Qualcuno che ci ha scritto in risposta alla nostra richiesta appunto sui social, qualche persona che magari vicina si è confidata, ha raccontato e quello che magari ho sentito nel corso degli anni, sia scrivendo, sia lavorando appunto in radio. Ecco, il quadro che io ho potuto notare è che è molto facile, ad esempio, che gli uomini abbiano, almeno quello che mi è stato riportato, è che gli uomini hanno un pochino più reticenza a raccontare le loro fantasie sessuali alla propria partner e parlo di coppie eterosessuali. È una cosa che ti risulta? Allora, sicuramente, partiamo da che cos'è una fantasia. Le fantasie sono dei pensieri, in qualche modo delle immagini o pensieri che noi produciamo nella nostra mente che possono, che vorremmo o non per forza desideriamo realizzare. Quindi, in qualche modo, quello che noi diciamo sempre, nelle fantasie si può tutto, no? Perché, in qualche modo, è un qualcosa che ci aiuta a sostenere la sessualità e anche tante volte a attivarla. Tendenzialmente è stato visto che gli uomini desiderano, con maggiore frequenza, realizzare poi le fantasie che hanno, mentre invece le donne in misura minore. Cioè, in qualche modo, anche se hanno una fantasia, non è necessario che questa venga messa in pratica da parte delle donne. Quindi, in linea generale, sicuramente consideriamo che innanzitutto dipende anche dal partner che abbiamo di fronte, perché magari se io ho la fantasia, faccio degli esempi, di avere un rapporto con una terza persona, magari la mia partner è fortemente gelosa, quindi questa cosa diventa complessa. Sia che si tratti di un uomo, sia che si tratti di una donna, potrebbe essere. Quindi la tengo per me, in quel caso, certo. Sì, molto spesso. Molto spesso anche perché c'è sempre la paura di poter andare a ferire il partner, e questo succede anche nell'orgasmo, perché, per esempio, la finzione dell'orgasmo può avvenire anche negli uomini, però c'è una differenza fisiologica, anatomica. Negli uomini l'egiaculazione coincide con l'orgasmo, quindi raggiungo un culmine di piacere e sento il bisogno di poi egiaculare, e solitamente arrivano insieme. Nella donna, invece, no. Quindi la finzione dell'orgasmo nella donna, negli studi il 65-67% delle donne hanno almeno finto l'orgasmo una volta nelle loro relazioni, quindi sono numeri piuttosto alti, e nella finzione fingono anche per non ferire il partner, perché magari potrebbe rimanerci male del fatto che non mi ha fatto arrivare fino a lì, non mi ha soddisfatto in qualche modo. Quindi teniamo conto che l'idea di poter, questo vale anche per le fantasie, di poter ledere l'altro, la sua autostima, la sua idea, è un qualcosa che è ancora più forte nella sessualità. Se lo è già forte, magari quando si parla di altri argomenti, nella sessualità si va a toccare qualcosa di ancora più profondo. Ma è importante all'interno di una coppia, in un rapporto aperto e sincero, condividere le proprie fantasie, o è anche giusto che possano rimanere, o che debbano rimanere parte del vissuto e del pensiero di ognuno senza bisogno di andarle a condividere? Allora, questo dipende un po' dalla coppia, dagli individui. Io quello che credo è che ci sia sempre un privato e un pubblico, cioè un qualcosa che forse possiamo tenere per noi, che ci può anche aiutare nella sessualità, a essere più anche disinibiti, più sciolti, anche più rilastati. È qualcosa che invece ci va di condividere per magari fare qualcosa di nuovo, per magari mettere un po' di pepe, per sapere l'altro cosa pensa, se sarebbe disposto a provare. Quindi questo è un po' il mio pensiero rispetto alla condivisione. E per esperienza proprio diretta, quindi con le persone che si sono rivolte a te, nel momento in cui invece avviene la condivisione o nel momento in cui non avviene, i partner come possono reagire? Cioè, ci sono partner che questa cosa la vivono male quando non c'è la condivisione delle fantasie? Nel senso, quanto è importante per quello che hai visto sentirsi dire le fantasie del proprio partner o della propria partner? Anche lì dipende dalla tipologia della coppia. Ci sono coppie che sono magari più, noi le chiamiamo simbiotiche, quindi in qualche modo fanno un po' tutto insieme. e magari loro hanno bisogno anche di dirsi queste cose, altre che invece rispettano in qualche modo lo spazio dell'altro. E lo spazio è anche uno spazio dell'immaginazione, delle fantasie. Non è molto semplice, perché comunque si tratta di temi sempre, un po' come accettare in qualche modo che l'altro possa vedere un filmato pornografico e non avere una sessualità con me, no? Però è un qualcosa che comunque non preclude l'altro, cioè non è che se io non ti racconto le mie fantasie allora o te ne racconto solo una parte, allora io non ho voglia, non voglio avere una sessualità con te. Certo, certamente. Senti, tu prima parlavi di finzione dell'orgasmo, che il 67% delle donne all'interno di una relazione hanno finto l'orgasmo almeno una volta, mentre per gli uomini è più difficile perché comunque c'è un meccanismo che insomma si vede se un uomo... Ma fingono anche gli uomini un pochino? Allora, non è escluso che anche gli uomini fingano, però è più difficile per loro fingere perché in qualche modo nel momento in cui poi c'è l'eiaculazione è visibile, coincidono questi due momenti. Nel momento in cui non c'è l'eiaculazione è difficile anche che si raggiunga il momento più alto o se in questo caso magari è necessario approfondire un po' se potrebbero esserci delle problematiche, perché a volte può capitare che ci siano dei problemi di eiaculazione, quindi l'eiaculazione invece che essere ante avviene all'interno, si chiama eiaculazione retrograda, quindi torna indietro, quindi lì magari noi vediamo che lui è soddisfatto, che magari sono rari i casi, però può succedere, che è soddisfatto, va tutto bene però non vediamo nulla visivamente, quindi potrebbe essere che ci siano delle questioni biologiche. Ecco, più che di finzione vera e propria. Esatto. Ecco, ok. E sempre proprio riguardo a una cosa che potrebbe non dire un uomo, capita che gli uomini assumano, provino per una volta o per un periodo pasticche come il Viagra e poi abbiano difficoltà a parlarne con la partner? Allora, sì, il Viagra, il Viagra, il Chalice, insomma tutte quelle pasticche che hanno la stessa funzione, sono un po', intanto vi volevo raccontare come è nata il Viagra, non so se lo sapete però... Viagra è stato creato dalla casa farmaceutica Pfizer, la stessa del vaccino, e praticamente aveva somministrato questi, queste pasticche, cioè aveva creato queste pasticche per uno scopo cardiaco, quindi per una buona riuscita cardiovascolare, in realtà aveva, e questo era riuscito negli animali, negli anni 90 provano a somministrarlo anche all'uomo, e vedono che però non aveva questo effetto, però tra gli effetti collaterali c'era quello di causare un'erezione, per cui i ragazzi, gli uomini che erano, avevano partecipato allo studio sperimentale, non restituivano le pasticche, e quindi hanno scoperto questa funzione del Viagra. Allora... Un caso di serendipiti, insomma. Esatto, gli studi ci mostrano che in qualche modo sempre più ampia è la popolazione che utilizza il Viagra, o comunque farmaci di questo tipo, sono anche tra fasce di età in cui non avrebbero bisogno, perché comunque ricordiamoci sempre che la sessualità è legata anche a a una prestazione, a una performance che devo raggiungere, che devo avere, no? Nel momento in cui utilizzo una pasticca, posso essere sicuro che andrà bene. Alle volte, infatti, con molta facilità, alcuni urologi e andrologi lo somministrano, no? Proprio per lo stesso discorso che facevamo ieri, che dare una pasticca tante volte ci sembra più facile, no? Anche assumerla. Certo, curare il sintomo. Esatto. Lavorare su di noi è più faticoso. Certo. Quindi a volte anche lo usano un po', si chiama come una stampella. Cioè, se tanto prendo quello, puoi stare tranquillo che in qualche modo potrai andare, no? E in questo senso anche la nostra autostima ne giova, però dobbiamo essere consapevoli che invece non è proprio... Certo. Esatto. Oddio, scusa. E quindi è un po' questo. Nelle popolazioni anche piuttosto giovani succede, secondo me, anche legato al fatto della visione dei filmati pornografici. Comunque nella pornografia sia prestanti, ci sono delle dimensioni, dei corpi performanti, dei corpi anche esagerati, no? Per questo che è importante comunque renderci sempre conto che quello non è la realtà. Ma quanto è importante dirlo all'interno di una coppia? Guarda, sto assumendo, ho provato, ho voluto provare, l'ho preso, perché? Beh, allora, secondo me è importante anche perché magari potrebbe essere utile dire, forse il lavoro da fare è un altro, no? Forse potrei aiutarti anch'io, perché tante volte anche con dei feedback, no? Certo. partner si può avere un po' di rinforzo positivo, in qualche modo sapere che mi piace questa cosa, che sei stato bravo qua, o brava a fare una determinata cosa, che mi piaci in quel modo. Sono tutti dei rinforzi che noi possiamo ottenere per poter poi essere anche un po' più spigliati. Sicuramente nel momento in cui si assume Viagra, bisogna, se si arriva appunto ad assumerlo, bisogna pensare che forse un po' più in profondità sarebbe necessario andare. Anche se uno lo prende per curiosità? Beh, se è per curiosità e poi non ha nessuna problematica della sessualità, non vedo perché andare a magari chiedere l'intervento di un sessuologo, però questo non so. No, 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 lo intendevo nel senso all'interno di una coppia. Della coppia. Potrebbe darsi, no? Che un uomo decida di provarlo per curiosità, oppure è una cosa che non hai mai riscontrato? Allora, a me non è capitato sinceramente, però può darsi, può darsi, però ecco, secondo me c'è sempre un po' un... Una motivazione. Certo, certo. Bene. Bene, Francesca, io ti ringrazio tantissimo per questa seconda nostra chiacchierata. È stata molto interessante, molto costruttiva e mi auguro che tu possa anche in futuro tornare come ospite di Radio Sankara qui a Tabù e a Tatù. Grazie, grazie a voi. Sì, mi fa sempre molto piacere dare uno spazio a questi temi che, come vedete, si potrebbe parlare per ore e quindi... Sì, assolutamente. ...motto volentieri. Bene, bene. Grazie a Francesca Inghirami, sessuologa, che potete trovare sui canali social. E buona settimana del benessere sessuale a tutti e a tutte. Grazie a tutti.